e da credi agricole ora passiamo a un broker importante del gruppo Aone e ho avuto il piacere di intervistare proprio il principe di Savoia all'attere del principale evento Roberto Meyer Head of Bank Assurance di One Underwriting. Prego, guardiamo insieme questa mia intervista. Siamo a Future Bank Assurance Forum al Summit qui al Principe di Savoia e sono con Roberto Meyer Head of Bank Assurance di One Underwriting, gruppo Aone. Roberto, benvenuto. Un pomeriggio intensissimo, abbiamo appena ascoltato una sessione proprio dedicata alla protection delle piccole e medie imprese. So che anche voi come One Underwriting avete una certa practice nell'assicurare le PMI. Qual è la vostra strategia, Roberto? Innanzitutto buonasera. Ovviamente come One Underwriting apparteniamo al gruppo Aone, quindi abbiamo la possibilità di accedere a mercati anche innovativi molto interessanti. Diciamo che il gruppo Aone ha la capacità di mettere a disposizione quello che prima Francesco Marcacci che è a Cassia dei risparmi Volterra ha definito ecosistema. Quindi partiamo dalla piattaforma Tsunami, piattaforma leader già conosciuta nel mercato a disposizione delle banche per la distribuzione dei prodotti assicurativi. Utilizziamo l'expertise di Aone, quindi la capacità di lavorare su mercati anche stranieri, penso a quello dei Lloyds, con il brand One Underwriting, quindi l'agenzia di gruppo, che al suo interno poi ha anche un team di underwriter per la costruzione e la gestione dei prodotti assicurativi dedicati alle piccole e medie imprese. In ultimo ovviamente chiudiamo con la capacità di fornire poi un servizio tutto tondo su questo mondo. attraverso anche accordi di distribuzione innovativi. Quindi come ci muoviamo noi? Fondamentalmente le banche devono vendere prodotti per le piccole e medie imprese, un mercato ormai di richiesta, l'esigenza c'è, è chiara. Ovviamente non sempre le banche riescono a generare volumi critici per stipulare accordi strategici, perché evidentemente non è il mondo del retail dove i numeri sono gigantissimi, sono così grandi. Di conseguenza l'utilizzo di One Underwriting permette appunto l'accesso a dei contenitori, delle facility di alto livello, molto ampie, che permettono quindi di portare in copertura la maggior parte dei loro clienti che hanno queste esigenze. Quindi questa è un po' la nostra strategia su questo mondo. Anche Claudio Cerrato prima faceva riferimento proprio alla necessità delle banche di lavorare anche con accordi strategici, con broker barra agenti che gli permettono di raggiungere quelle soluzioni che magari non tutte le compagnie che fanno banca assurance tradizionali riescono ad offrire. Ovviamente si diceva che anche prima, spunti che ho colto durante gli interventi di oggi, i clienti sono sempre gli stressi ma cambiano perché cambiano le esigenze. Quindi l'ecosistema che si deve costruire deve essere adattivo, quindi è in grado di recepire le esigenze che cambiano e questo si può fare se gli strumenti che ci sono e le soluzioni sono modulari e facilmente implementabili. Ecco Roberto, una domanda. Ma secondo voi le PMI oggi hanno cambiato la loro sensibilità verso il rischio? Cioè c'è più anche una recettività, una maggiore richiesta proprio da parte della domanda di assicurarsi rispetto magari al passato? Cosa notate voi? Allora sicuramente sì, questo lo notiamo ovviamente come gruppo A, dove ovviamente siamo propositivi nell'andare a cercare clienti per gestire anche con sistemi di risk management le loro esigenze assicurative. L'Italia è sempre sotto assicurata a questo, lo si sa, lo dicono i report, non lo dico io, e di conseguenza c'è sicuramente una grossa domanda da questo punto di vista. Le aziende stanno evolvendo, introducendo anche figure professionali al loro interno nei dipartimenti di risk management che quindi evidenziano la necessità di coprire meglio le aziende per cui lavorano. Evidentemente poi l'environment in cui ci troviamo spinge anche verso questo, ormai tutti parlano di rischi cyber, non sempre magari sia chiaro qual è il rischio cyber che corre una singola azienda, ma evidentemente tutti stanno capendo che c'è questo tipo di rischio, per fare un esempio. Il governo, legge di bilancio, ora andrà, tra virgolette, ad imporre le coperture catastrofali, non sa bene ancora come, ma sicuramente il trend è questo, e quindi le aziende stanno cominciando a chiedere, ad informarsi, per capire come loro si devono muovere per andare incontro a questa necessità. Quindi la mia sensazione è che sì, qualcosa si muove. Probabilmente non saremo ancora a livello dei paesi nordici o anglosassoni, ma sicuramente qualcosa si sta muovendo. Roberto, secondo lei le banche, le banche partners, ma anche altre banche che poi appunto con cui voi interloquite, sono disposte oggi, sono disponibili, sono pronte ad ascoltare i bisogni dei loro clienti PMI? Perché sul retail le banche hanno fatto da sempre un eccellente lavoro, ma poi oggi in pratica come avviene invece? Questa è una gran bella domanda. Allora, quello che notiamo noi è che sicuramente le banche si stanno attrezzando per dare risposta ai propri clienti, parlo di clienti PMI. Sicuramente stanno cominciando a portare a bordo persone esperte o a formare gli specialist sul territorio, i gestori impresa, anche in termini assicurativi. È la famosa transizione culturale che le banche stanno facendo, dai prodotti finanziari, che ovviamente masticano, ai prodotti assicurativi. È sicuramente un processo ongoing, ma sicuramente tante tante banche sono già avanti in questo processo. Bene, grazie Roberto per aver condiviso con noi la vostra opinione e arrivederci alla prossima occasione. Grazie, è sempre un piacere.